come possiamo conoscere meglio l'artista sconosciuto più conosciuto al mondo senza sapere nemmeno chi è questa bambina senza tempo è come se rappresentasse l'innocenza dell'infanzia che tutti abbiamo vissuto in cui tutti ci identifichiamo e con una semplice mano protesa che non c'è dato sapere se cerca di trattenere o lasciare andare il palloncino riesce ad accendere in ognuno di noi il desiderio di proteggere e custodire le sue speranze per il futuro